Basta la smog è un'associazione che ha cercato di parlare, di avere delle risposte dell'amministrazione però a quanto pare voi lamentate in quest'ultimo documento che avete messo e non ci sono risposte. Che succede? Sì, diciamo che l'amministrazione dalla tanto declamata trasparenza in realtà ha domande esplicite dove ci si aspetta una risposta c'è l'assoluto silenzio. Noi abbiamo avuto diverse volte incontri con l'amministrazione, con il sindaco, abbiamo ufficialmente protocollato lettere con richieste ma che non sono tante, poi sono semplicemente due e che sono la domanda di dove sono e perché non sono state ancora montate le panchine le fioriere per il corso stretto, diciamo per l'isola pedonale, è perché non si viene data risposta alla richiesta di aule per il liceo Vito Fazio Maier. Bisogna dire che il liceo è competenza della provincia. Però, come avviene in tantissimi altri posti d'Italia, come a Desenzano, Tolentino, Langiano, Arezzo, Ovada si possono fare gli accordi tra l'app e il comune che cede in comodato d'uso gratuito le aule alla provincia che se ne accolla le spese. Abbiamo un fenomeno strano ad Alcamo, cioè il liceo Vito Fazio Maier ha avuto un incremento di iscrizioni grandissimo grazie al fatto che è stato fatto il liceo musicale, grazie al fatto che si è inserita la lingua russa e molto presto ci sarà anche il liceo artistico. Questo ha portato a una grande richiesta di iscrizione e mancano le aule. E voi lamentate il fatto di non aver avuto risposta anche verbale? Niente, c'è l'assoluto silenzio, il muro. Io direi quasi, per dire una frase un po' che abbiamo votato l'amministrazione Surdi ma ci siamo trovati un'amministrazione di muti. Solo con il sindaco, l'amministrazione e altri rappresentanti di 5 Stelle? Abbiamo anche parlato con Ignazio Corrao con cui c'è stata una lunga, sempre per il discorso sia del Viso La Pedonale che del liceo Vito Fazio Maier, c'è stata una lunga corrispondenza. Ignazio Corrao è stato informato come parlamentare europeo anche per la ricerca eventualmente di fondi europei perché il liceo Vito Fazio Maier con l'inserimento di queste nuove materie può diventare un liceo a livello europeo e di risonanza nazionale. Sarebbe un grandissimo polo culturale per la nostra cittadinanza.